Un complesso di interventi strategici per lo sviluppo della Toscana lo ha definito così il governatore Gianni che al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha seglato un protocollo d'intesa per l'avvio, la realizzazione e il completamento di alcuni interventi fondamentali per il territorio regionale pronti 3 miliardi di euro. La firma che ha coinvolto il Ministero Autostrade per l'Italia e Regione Toscana riguarda in particolare l'ampliamento la terza corsia dell'autostrada 11 nel tratto Firenze-Pistoia, l'ampliamento la terza corsia dell'autostrada 1 nel tratto Incisa-Valdarno, la riqualificazione delle carreggiate esistenti e il redirezionamento delle stesse verso nord dell'autostrada 1 Milano-Napoli nell'ambito dell'ampliamento la terza corsia tra Barberino di Mugello e Firenze-Norda e le opere a corredo dei lavori della variante Rivalico. Presto vedremo i cantieri che partiranno da Peretola dove con il Comune di Firenze era stato concordato che un lavoro propedeutico alla terza corsia Firenze-Prato-Pistoia fosse quello dello svincolo a Peretola eliminando il semaforo che porta all'aeroporto e quindi questo andrà avanti. Naturalmente io ho chiesto una serie di contropartite in questo protocollo su quello che riguarda il destino dei Comuni attraversati dall'A1 che è già stato oggetto di terza corsia in alcune parti e lo sarà fino a Incisa e può avvaldarlo in alcune altre parti. Nel protocollo sono inseriti altri interventi nel Comune di Reggello e nel Comune di Terra Nuova Bracciolini. E poi il quinto intervento in località Terra Nuova Bracciolini laddove sarà completata il secondo lotto della viabilità ordinaria di tangenziale al paese, quella che poi interessa molto l'area industriale e vi sarà un cavalcavia nuovo nel Comune di Reggello proprio per quello che ha indotto la nuova terza corsia rispetto all'attraversamento della stessa appunto in questa bella località fiorentina.